gennaio 2020 sembrava essere un anno come un altro ma di lì a poco sarebbe successo l'impensabile a marzo 2020 scatta il primo lockdown che doveva durare solo un mese ma che alla fine ne è durato ben tre la gente era spaventata e noi ragazzi almeno il primo mese eravamo felici di non dover andare a scuola giugno 2020 lockdown finito e sembra tornare un po di normalità mi preparo alla maturità e mi godo l'estate come tutti si va al mare a fare shopping e persino a ballare in discoteca finisce l'estate e arriva settembre e con lui anche nuovi problemi i contagi aumentano di nuovo le scuole riaprono anche se per poco e si torna di nuovo quasi al punto di partenza ottobre 2020 la situazione diventa sempre peggio tanto che si procede ad un secondo lockdown non totale come il primo ma per regioni infatti ogni regione aveva il suo colore e in base a ciò c'erano dei limiti da rispettare novembre 2020 forse si iniziano a calmare le acque e si è sempre più vicini a trovare una cura vengono sperimentati diversi vaccini e si inizia a vedere uno spiraglio di luce dicembre 2020 nonostante tutto si festeggia il natale il vaccino diventa realtà e si spera in un 2021 migliore ne abbiamo passate tante quest'anno e nel bene e nel male abbiamo avuto modo di crescere e soprattutto di apprezzare le piccole cose come una semplice uscita con gli amici o addirittura una giornata di scuola hello alla gente benvenuti in questo nuovo video io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale oggi ragazzi è il 31 di dicembre ed è l'ultimo giorno di questo 2020 che è stato un anno bisesto eppure funesto perché sono capitate tante di quelle cose che per riassumerle tutte un video non basterebbe tra pandemia lockdown e tutte le altre catastrofi penso che possa essere classificato come l'anno peggiore se non uno dei peggiori della mia vita tra l'altro avendo passato tanto tempo in casa ho avuto anche tanto modo per riflettere e di capire alcune cose tra cui anche che cosa farne di questo canale youtube che da quando ho iniziato sembra essere fermo allo stesso punto non fraintendetemi però perché non sto dicendo che non sono soddisfatta dei risultati raggiunti finora ad esempio quest'anno abbiamo raggiunto dei risultati davvero buonissimi come per esempio i 1000 iscritti e la monetizzazione attivata e anche le 150.000 e passa visualizzazioni totali però nonostante questo sento ancora che manca qualcosa sento che manca quella cosa che mi fa dire wow ho fatto proprio un bel lavoro ed eccoci arrivati al perché del titolo del video un nuovo capitolo che sembra quasi una cosa così tanto drastica ma che in realtà non lo è anzi in realtà è più un modo per farvi sapere che faremo grandi cose in questo 2021 ho intenzione di focalizzarmi molto di più sui contenuti che porto e anche sulla loro qualità anche se ciò magari comporta il dover far mancare un video e magari non farne uscire due ma farne uscire solo uno oppure farne uscire tre in una settimana e cose del genere dipende molto diciamo dal tempo che ho a disposizione e di come voglio fare quel determinato contenuto in realtà ancora non ho ben deciso se far uscire due video se far uscire tre video o comunque stabilire appunto tre giorni o due giorni comunque come vi ho detto non è sicuro che escano proprio in quei giorni però ovviamente farò sempre il mio meglio per farli uscire mi piacerebbe come vi ho detto strutturare di più i contenuti in modo che abbiano un inizio e una fine ben precisa e in modo che io non mi perda a parlare di 312 cose nel mentre anche i vlog li vorrei strutturare un po' di più magari avendo un obiettivo, uno scopo per quel vlog anziché magari girare a caso e fare riprese a caso vorrei fare appunto il migliore dei lavori, tirar fuori la qualità migliore sfruttando le cose che ho, cosa che sto iniziando già a fare adesso perché come vedete c'è una luce colorata dietro la luce sulla scrivania in teoria dovrebbe essere abbastanza uniforme e cose così tra l'altro piccolo momento spam come al solito se ancora non l'avete fatto seguitemi su Instagram a chiocciolanotterin perché metto foto, storie eccetera e metto anche sondaggi per sapere magari voi che cosa volete vedere o se ci sono magari cose da modificare nei video e cose del genere i contenuti saranno comunque legati al mondo tech, ai vlog e a tutto ciò che mi passa per la testa perché non mi piace focalizzarmi su un singolo argomento e credo che se lo facessi non andrei avanti perché sono una persona che si scoccia molto facilmente detto questo vi dico solo che darò il massimo per spaccare tutto in questo 2021 e vi ringrazio ancora per tutto il supporto che mi avete dato durante questi anni di apertura di questo canale e non solo e spero che possiate essere con me in questa missione perché ok dopo questa piccola uscita napoletano direi che può bastare così per questo video vi lascio alle vostre famiglie, vi lascio a tutte le cose che dovete mangiare e vi lascio soprattutto ai botti di Capodanno che a me non sono mai piaciuti e mai piaceranno ma questa è un'altra storia quindi nulla vi auguro buon Capodanno divertitevi e caricatevi ma mi raccomando siate responsabili anche se dovete sparare le botte magari cercate di non saltare in aria cioè almeno qua da me sembra che vanno in guerra non che sparano delle botte di Capodanno ma quelli sono altri dettagli come al solito tra l'altro sono curiosa di sapere anche quali sono i vostri buoni propositi per questo 2021 che cosa volete fare se avete delle cose in particolare che vi piacerebbe realizzare che questo 2020 non vi ha permesso di fare per quanto riguarda me i miei buoni propositi sono praticamente sempre gli stessi di tutti gli anni quindi è inutile che io stia qua a dirveli anche perché non so se riuscirò a portarle avanti anche quest'anno quindi l'unico buon proposito principale che voglio darmi è proprio questo di aumentare la qualità di questo canale e incentrarlo sul contenuto e sulla qualità anziché sui numeri quindi niente ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto se così state mi lasciate un bel pollicione su commentare iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo nel 2021 con un prossimo video sempre qua sul canale bella ciao 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 ciao